Musica Lorenzo Palma per Live Television questa sera ci troviamo in una delle serate più prestigiose del venerdì notte di Roma e una delle one night più longeve e sicuramente delle più interessanti tutti sono curiosi, tutti hanno interesse a partecipare alla serata di Mucca Assassina ci troviamo qui al Cube, è la residenza che ospita questa importante serata ormai da diversi anni siamo arrivati al ventennale di Mucca Assassina e tra poco vi faremo capire il perché le persone sono così desiderose e così curiose di entrare qui dentro tra poco lo scopriremo Siamo nella zona super privé di Mucca Assassina siamo al terzo piano dove si fa la music house ma soprattutto siamo insieme all'art director di Mucca Assassina Diego Longobardi ciao Diego Ti sento poco, un piacere, buonasera o buongiorno a tutti? Buonanotte Buonanotte Ci segue quando voi lavorate praticamente Allora, direttore artistico di Mucca Assassina ormai da quanti anni? Beh, ormai sono cinque anni con interruzione breve ma sono quasi cinque anni da quando Mucca Assassina si è trasformata un po' in un club un club per clubber Sicuramente è una realtà del mondo GLBT però è un club aperto poi a tutti quindi un diverso per tutti, vogliamo chiamarlo così Beh, è un club aperto a tutti storicamente cioè sia a livello di preferenza sessuale che sia a livello d'età ci sono persone giovanissime anche ma 50 anni, 60 anni 60 anni che magari venivano a Mucca 15 o 20 anni fa perché ricordiamo che Mucca Assassina è nella sua ventunesima stagione quindi tra l'altro abbiamo pubblicato un libro per la postcard che raccoglie degli scatti di 20 fotografi e verrà pubblicato, no è già pubblicato, è in uscita a fine novembre in tutte le librerie lo troverete Il primo venerdì del mese abbiamo un tema cinematografico cioè Mucca Assassina dedica l'animazione, i colori ecco, stasera per esempio Mucca Assassina è la lampada magica quindi abbiamo arabeschi e cose varie Odalisque e Onuki abbiamo fatto una Mucca Assassina dei Caraibi e a dicembre ci sarà Mucca Assassina e la lampada magica il secondo venerdì del mese invece, oddio la voce è dedicato all'Euro Pride che si terrà a Roma nel 2011 e quindi ospitiamo dei club stranieri adesso il 12 ci sarà Matinee in rappresentanza della Spagna poi avremo Love Child in rappresentanza della Gran Bretagna e così via il terzo venerdì del mese è un tema libero mentre il quarto è una serata un poco hot, hard, dildo invitiamo sul palco di Mucca a esibirsi live i migliori e più hot porno attori della scena mondiale Quante persone lavorano dietro al progetto della serata? Allora a Mucca Assassina lavorano circa 40 persone tra DJ, animazione e tecnicismo si impasta la bocca ovviamente la serata di Mucca Assassina è legata al Circolo Mario Mieli al Circolo Mario Mieli quindi ha anche uno scopo sociale infatti tutto quello che viene guadagnato da Mucca Assassina serve per mantenere in vita il Circolo Mario Mieli che svolge attività di assistenza domiciliare di assistenza legale per persone GLBT e per qualsiasi tipo di supporto morale e pratico che le persone possono chiedere Se tu potessi esprimere un desiderio cioè aprire la lampada magica cosa vorresti? Ma io il mio desiderio più grande è che il pubblico sia sempre contento e che io e i miei collaboratori siano sempre all'altezza di questo pubblico grazie mille Diego Locobardi andiamo a farci un giro per il locale andiamo a scoprire tutto il resto perché c'è molta strada da fare grazie a voi ciao Siamo nella zona più VIP questa sera veramente di Mucca Assassina perché all'interno del locale la situazione è già meravigliosa si possono incontrare delle belle donne cioè come dire la vera e propria madre natura molti uomini però anche belle donne e le belle donne al Mucca Assassina sono di questa portata abbiamo Taylor l'attuale madre natura di Ciao Darwin molto alta io mi devo mettere in piedi perché sennò veramente c'è un tacco 10 lì sotto però 10 10 10 10 allora qua è troppo bello io sono di Milano però sono rimasta apposta ieri ho lavorato qua a Roma sono rimasta apposta a Roma per questa sera perché troppo troppo figa Mucca Assassina è fantastica veramente perché qua la gente viene a divertirsi non è che fa finta tutti che ballano tutti che c'è si divertono io sono cubana noi ci divertiamo con la musica quindi io sono venuta la mia seconda volta in questo posto e vedo che le persone si divertono veramente per questo mi piace intanto ti ringraziamo moltissimo per essere stata qui con noi grazie grazie a voi buona serata ciao abbiamo conosciuto Teila che è la testimonial di un amico Mario Orfei che ha poi una linea di moda perché tu Mario Orfei non griffi così la tua linea esatto non griffo nel mio nome ma griffo con ezzine che vuol dire ottavo peccato quindi andiamo dal settimo la religione ne ha fatti sette noi essendo mortali ne facciamo otto giusto Lorenzo? ne facciamo otto assolutamente poi voi non lo sapete però dalla settimana prossima io vestirò ezzine bravissimo perché lui è un ottavo peccato visto che tu ti occupi di moda la tendenza per essere veramente cool quando si va in un locale cos'è che non può mancare in questo 2011 che comunque sta per arrivare? uomo o donna mi chiedi? uomo e donna beh credo per la donna non può mancare sicuramente l'accessorio quindi scarpa e borsa credo che sia proprio il massimo di una donna perché adesso il mercato sull'affigliamento ha talmente tante opportunità che può avere qualsiasi tipo per l'uomo credo il tuo accessorio il cappello segnala tantissimo perché non tutti si possono permettere di portare un accessorio quindi quello è veramente cool Mario Orfei che insomma è uno stilista e che ama la serata di Mucca Assassina al club grazie ragazzi divertitemi sempre mi raccomando con la testa ciao siamo scesi di due piani praticamente dalla zona privé siamo scesi diciamo nella zona quella regina di Mucca Assassina storicamente conosciuta come la zona più happy dove poi parte tutto lo spettacolo del venerdì sera qui al Cube allora la zona commerciale è la zona più importante proprio perché si parte con la sigla in maniera ufficiale e quindi a come dire in qualche modo accompagnare tutti gli amici che vengono tutti venerdì ci sono dei bravissimi DJ e anche molto giovani non solo DJ ma di DVD video DJ o DVJ DVJ questa insomma lui è un ragazzo giovane ma soprattutto bravo Fabio Lanzone ciao cosa vuole la gente a Mucca Assassina commercialmente parlando Mucca Assassina diciamo che essendo insomma il locale gay più grande d'Italia c'è un'affluenza di pubblico tale per cui accontentare tutti è difficilissimo per questo qui in sala commerciale tendiamo ad accontentare il pubblico mettendo dei pezzi conosciuti di stampo puramente radiofonico mixati in maniera alla discoteca alla disco dance quello che cerchiamo poi di fare per attirare sempre più pubblico è abbiamo un cast artistico che è tra i primi in Italia che fornisce spettacoli ogni venerdì e più volte durante la serata e poi da qualche anno a questa parte abbiamo introdotto in esclusiva in Italia questa nuova tecnica di missaggio con audio e video assieme che permette al pubblico che è in sala di vedere i video in sincrono con la musica è la soddisfazione più grande quella di far divertire il pubblico che viene qua basta avanzare a quello assolutamente ci sei riuscito almeno questa sera non ho mai visto situazioni diciamo in difficoltà nella sala commerciale quella che trovate appena entrate in questa meravigliosa serata del vero di notte del Cube grazie Fabio grazie a te ciao signore e signore lui è colui che conduce il movimento corporeo dell'animazione il coreografo di Mucca Assassina animazione di Mucca Assassina per un po' di anni Max Verducki ciao Lorenzo come stai molto bene grazie vedo che il petto è sempre molto sempre gonfio sì no no palestra questa tutta palestra tanta palestra perché i ragazzi per essere belli si preparano cioè non sono solamente dei bravi ballerini ma sono anche dei ragazzi molto belli da vedere anche perché qui se non c'è la bellezza non si fa niente ovviamente ci vuole un po' di tecnica un po' di saper giocare col pubblico saper ballare un minimo e poi la presenza Max allora una grande stagione di Mucca Assassina soprattutto quest'anno è incentrata su temi importanti quelli cinematografici e questo sabato la lampada magica la lampada magica siamo tutti un po' aladino c'è chi si sente un po' il genio lei è un odalisca ad esempio una la 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 chiamiamola la non ho ancora capito il motivo ma la chiamiamo così ah così è nato così poi abbiamo la Jolie che è un'altra uhlala molto bene e qui abbiamo il fantastico la fantastica Motor Pay quanto lavorate dietro a tutto questo per arrivare al venerdì pronti? c'è tantissimo lavoro dipende dal numeri che devono essere preparati a volte proviamo uno giorno una serata intera a volte proviamo due giorni e quando abbiamo l'apertura abbiamo degli eventi speciali come reparti per la lotta all'ice o il capodanno abbiamo giorni e giorni di prove durissime perché il risultato deve essere sempre superiore a tutti perché Mucca Assassina vince sempre non sono l'unico coreografo c'è anche Alexander Dokolesci che è il coreografo delle Zullallah e che monta anche numeri per i ballerini per le drag queen che è un ottimo coreografo bulgaro quindi ha una preparazione di danza diversa dalla mia quindi prepariamo spettacoli veramente di ogni genere ma buonasera e benvenuti in questo harem di Odalisk ti senti un po' salotto di casa tua di la verità sì assolutamente infatti ho il benvenuto da buona patrona di casa diciamo insomma lo possiamo dire Scimel tu sei una figura del mondo delle drag performer emergente sì abbastanza c'è niente da fare vi ringrazio stai ottenendo un ottimo successo vediamo un po' dove andiamo a parare insomma c'è una competizione tra l'altro tremenda qua perché vedo che subito cercano di distarmi perché ti sto interligando subito guardala guardala che perfida guardala